I quel risultato, in maniera che vogliono tracciare di fronte, non solamente sta secondo lo che non si è planificato, ma anche sta surpassando una forma, mi dico, anche soppressiva di un'banda, mirando lo che non si pone di fronte, però è logico, a base di conseguenze mesi, gli ultimi due anni, è il cambio di coefficiente di turismo con i partner che non si pone di fronte. Nostra corda, tre anni passati, quattro anni passati, discusciò tra i tattà, quanto buono non sta perdendo, quanto stuolo non sta ottenendo meno, il ultimo tre anni non consecutivo mi dico, e mi felicità, il l'Aeroporto di Aruba, sicuro, con i partner, posso, cada bè, con i tattici, e lavorare in base con i tattici, preparare naturalmente per l'Aeroporto, e vi beato ora, accompagnare con i funzionari di Oficina di Turismo, e il nostro ministro e l'Aeroporto, con i nostri embolbè, conjuntamente tra i tattici, e poi mira, il risultato non sumamente positivo, che oggi si attivano 80 mila stuoli, più addicionali per la temporada di ventre, un crescimento del mercato principale di 25% e del mercato secundario della latinoamerica di quasi di 1%. Noi, oggi è stato un buon anno, ma soprattutto perché ce che i hoteli sono lavorati è iniziare a aumentare il risultato di attenzione per la ripartare, per l'attentità di rinforzare. Anche a settimana, nel tempo, abbiamo visto un 20% increase in rinforzare, compared a the same 9 mesi del 2013, e questo continuò in October, che gli occupanti stavano un po' più alto, ma i hotel che stavano potendo ottenere un'attività più alta, e questo è traslato in un'improvviso REVPAR, che è la strategia che tutti stiamo facendo, siamo tutti in accordo con questo, questo è qualcosa che sarà beneficio non solo per l'industria, ma per la comunità come un po' per il lunedì ottobre del 2014 ha presenso un crescimento di un record di 19.9% con un total di 17.022 passagero adizionale e tamo un'quantità di 89 vuelo adizionale in comparazione con il lunedì ottobre del anno passato, lo che sarà il risultato durante il promedio di 10 lunedì 2004 ha conosciuto un crescimento record di 8.3% con un total di 74.733 passagero adizionale, comparare con il mese superiore del 2013. Forse nel mercato principale dell'America, non si ha presenso un crescimento di 6%, per l'Europa 1% e per l'America un crescimento significativo di 29%. Per il mercato dell'Canada e del Carribe olandese, si ha notato un caitto di 5% e di 13% dell'incapacità di passagero. Per il periodo di winter, qual è stato categoricato come il lunedì novembre e del marzo, non si ha presenso un crescimento record di 15% con un total di 80.494 capacità di stullan adizionale comparare con il winter di 2013. Il crescimento anche del 15% lo risulta di un averaggio di 12.000 passagero adizionale che non lo contano per l'una. Abbiamo un statistico del yearbook con un'atrice di l'anti con un'imponente molto importante che ha fatto con lo che tratta di yearly household income di visitor, che è il tipo di turismo che non sta attraendo per l'uomo e la qualità che ha dirigito il mese completamente. Arriba parte di affluent visitor che ha una migliore entrata. Ma ora guarda questo qui nel 2013 e mi tengo visto che nel 2014 la cifra è migliora ancora, posso concentrare e cambiare a passare in direzione in cui non stavamo inclinare per attraire turisti. Però nel 2013 capo, mi devo guardare un crescimento del тур 3, che è la categoria più alta di un turista.